uff vai faccio prowler alternator però vabbè due fight essi è tornato il prowler ma ma senza selettore di fuoco un attimo di brain lag è un problema cambia così tanto spoiler no proviamolo oggi fatemi sapere la vostra con un commento iscrivetevi al canale lasciate un bel mi piace e buona visione a parte sto giocando tutto ciò tranne ad fps a parte questo però piante contro zombie lo giochi da play che tra l'altro è anche molto divertente sì io ci ne eredavo al primo il primo ce l'avevo completo tutti i personaggi no sono scesi cazzo mi ha trovato l'arma energetica davanti brutta storia ma qui non c'è anche non so come darti mano ok da me gg per loro per fortuna che il tipo l'aveva al mastiff non mandato un colpo è stato quello il turning point plot twist no non lo vedo dove sta ah ok ora sì madonna madonna uh elstar o volt dai elstar proviamo c'è ancora zero pesanti ma le hanno tolte dal gioco no ma è tutta la sera che sto con zero pesanti comunque faccio fatica a trovarla caricatore pesante però si caricatore sull'elstar si surriscalda dopo più colpi bella forte qua davanti li ho visti forse no molti più molto più vicini a me pure eh no devo scappare che sbatti sono atterrato mi hanno fatto l'l1 no è letteralmente un one shot ha letteralmente uno di Cristo l'ho visto l'ho visto l'ho visto è più veloce a cambiare il robo l'elstar adesso che cazzo di mila di merda uno è one shot uno blu uno viola uno era one shot colpito solo il viola riesce palloncino è one shot in secondo preso all'aghi questo si va a confermare prima di subito vieni qua bello l'ho craccato in volo cazzo ne sticco uno ah ma molto vicini colpito il gibbo quasi crack molto quasi crack molto quasi crack sei suppato mi devo fare l'alti e si l'alti mit la battery oh cio 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 non ci sono non ci sono e non posso salire ma in caso quando faccio l'alti e quando la giampa ti andiamo verso di qua si si ce l'ho ce l'ho vai ovviamente mi doveva colpire prima di partire io voglio trovare la rampage che così un'arma per sparare da lontano e sto a posto giustamente eh sono morti sono morti quasi crack ma che devi rompere il pazzo sei quasi craccato non rompere il pazzo vai full no no voglio tiltare hanno il divieto non possono fai tarri tra di loro hanno preso il top eh top da noi uno craccato davanti l'altro team è sopra di noi eh si 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 ok qua 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 la porta ho visto male ho visto male mi sa è arrivato craccata la valk tantissimo c'è l'altro occhio se push li sto odiando questi due li sto odiando tantissimo madonna sboff fino a domani mattina sorry per il però almeno si sono cioè quantomeno grazie per esservi levati dal tetto madonna sale uno ma distrutto io non ho distrutto uno ma e devo fare i shell non ci sto capendo niente con tutti sti sir madonna no 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 questo no no l'ho visto l'ho visto la vita che avevo pullati pullati c'è solo 5 craccatissimo craccatissimo ok minchia che fatica ho la rampage non ho scudi cioè devo farmi scudi piccoli qua ci sono eh sì sì devo farmi scudi piccoli è la gioco di rampage e prowler ma soprattutto prowler ma tu hanno preso un colpo se ti sono rumori ok stanno qua cioè non ne avevo sentiti ma stanno là effettivamente andiamo verso la safe eh per forza per forza che fallo ora si dà sempre sto meme di me per forza cioè io lo dico di mio non è che lo faccio per i miei ma chiunque lo dice allora chiunque lo dice di suo infatti è una cazzata questa perché è nato sto meme ma in verità tutti lo dicono di loro cioè infatti ci sono un botto di clip di gente che dice per forza su youtube ma dice tipo per forza cioè è normale però vabbè possibile spitfire qua dentro attenzione non la prenderò l'ho già presa prima preferisco il rampage e invece ah l'alternator pure deve uscire ancora minchia mai uscita mai e non l'ha mai usata neanche un avversario in tre ore quattro ore boh andiamo qua che stiamo qua 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 ah ok ok si lo vedo e però ok è noccato c'è il teammate suo nice ma ce l'hai la harta ah ok craccato vado sopra ovviamente non vado sotto ce l'abbiamo qua sotto eh sì vai di a destra di a destra gira di l'angolo di là di l'angolo di là è one shot vai 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 ok non riuscivo a colpirlo di prowler vuoi un po' di pesanti 170 ne ho qui ci sono munizioni pesanti ah ok minchia cioè aveva il prowler voleva essere sicuro di provarlo adesso si spiega perché non ci sono pesanti a giro eh minchia tutte le uovi pure quelle delle lobby scorse è l'opop nuovo no uff vai faccio prowler alternator però vabbè due fight eh sì eh qua è dura perché c'ho prowler rampage alternator sono tre armi nuove dovrebbero darmi tre slot spero di usarla per mezzo fight almeno ok le hai visti ma fightano cioè o l'hanno buttata a cazzo così non lo so faccio l'ultimate mia qua saliamo sì fightano forse no che già è un fight in meno che posso fare con l'alternator per favore lenti 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 piano 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 è un team sopra forse no forse ho sentito te ho sentito te ho sentito te no ok l'hai visto l'hai visto ma dici che stai in solo no non stai in solo è one shot però ma l'altro ma scusami è là deve essere one shot penso ho craccato comunque madonna come voleva la conferma guarda come voleva la conferma maledetto per una kill no no ma infatti io ero rimasto che fossero entrambi i lati sono rimasto di merda poi l'avrete l'avrete è quella che avevo lasciato one shot eh ma è strunza sta roba dell'ultimate perché è rimasta finata quindi nessuno sovelo ah è vero madonna è l'alternator sì ma lo usa cioè ho sparato letteralmente un colpo e basta vabbè no ce l'avevo fatto 180 tipo ma poi cioè il fatto è che l'alternator sembra più forte pure quando cioè hai danni aumentati agli scudi e basta cioè se iti uno flash non è che gli fai danni aumentati sembra più forte pure quando iti flash perché c'ha fa il suono del robo laser anzi grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.